Siamo arrivati a questo punto perché dopo troppi no, dopo troppi no, non si governa con il signor no, l'Italia non può andare avanti con i no, e no ai treni, e no ai porti, e no agli aeroporti, e no al petrolio, no al metano, no al gas, no alle olimpiadi, no alla giustizia, no alla TAV. Noi stiamo preparando un governo che durerà cinque anni a colpi di sì, di crescita, di lavoro, di sviluppo, di opere pubbliche, non di assistenza. Io non trovo pugliesi, né a Foggia, né a Foggia.